Ben trovati con l'informazione a cura di Meteocalabria.net. Ad un mercoledì ancora caldo seguiranno correnti fresche da nord che faranno retrare temporaneamente l'anticiclone nord africano. Mercoledì 6. Cielo poco parzialmente nuvoloso su Alta Calabria, Crotonese ed Aspromonte, ma con bassa probabilità di fenomeni. Sereno sul resto del territorio regionale. Venti deboli da ponente sul Tirreno, ancora moderati da sud sulle Ioniche, tendenti poi a disporsi ovunque da Tramontana ad iniziare dalla tarda serata. Mari poco mossi, mosso solo il basso Ionio. Temperature diurne stazionarie con valori massimi anche localmente a oltre 25 e 27 gradi in pianura, poi in generale calo dalla sera. Condizioni di tempo decisamente più fresco per giovedì 7 maggio per venti tesi dai quadranti nord orientali. Ci attendiamo comunque bel tempo, salvo qualche nuvola sulla bassa Calabria, ma probabilmente senza precipitazioni. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!